Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a seconda di quando ci state guardando intanto adesso è mattina, la mattina del 19 febbraio finalmente torniamo in presenza qui a Manfredonia con il carnevale di Manfredonia e qua c'è il sindaco di Manfredonia Gianni Lotici è ben trovato Sì, grazie a voi, buona giornata a tutti Allora, caro sindaco, finalmente siamo in strada Sì, finalmente stiamo, come anche il motto di questo carnevale, tutto a posto tutto a posto perché ripartiamo dopo la pandemia, ripartiamo con forza abbiamo provato quest'estate con il carnevale estivo, è andato bene ma il carnevale va vissuto nel mese di febbraio, qual è la sua data sono entusiasta, felice perché Siamo fortunati, c'è un sole incredibile Ma Manfredonia è bello anche per questo perché c'è sempre il sole quindi adesso ci godiamo questa giornata ma soprattutto il ringraziamento va agli organizzatori, alle scuole a tutte le famiglie, ai gruppi perché questo carnevale che l'abbiamo impostato su quella che è la sfilata delle meraviglie con la partecipazione attiva delle scuole, dei gruppi che hanno lavorato in questi giorni preparando artigianamente tutti i vestiti è questa la tradizione di Manfredonia ci saranno quasi duemila ragazzi che sfideranno e questo è bello poi l'anno prossimo ci preferiremo ancora di più per essere ancora più importante come carnevale Ecco insomma ce l'abbiamo fatta anche grazie a un gruppo di volontari a salvare il carnevale perché non era facile considerato anche i problemi che conosciamo No, non era facile, anzi era difficilissimo perché tutti sanno che il nostro comune è indisesto non possiamo spendere un euro per la manifestazione dobbiamo fidarci di quelli che sono i contributi dei privati e della regione che in ritardo ci è stato comunicato e quindi con l'ansia di organizzare qualcosa e poi non riuscirci veramente è stata una cosa difficile però alla fine ce l'abbiamo fatto ringraziando veramente gli organizzatori tra i quali il delegato ai grandi eventi Gianni Svendurato che ha fatto un lavoro con tutta la sua equip con Filomena, tutti quanti assieme è grazie a questi volontari, grazie a loro, a consigliera Meri grazie a loro che si può fare questa attività, questo carnevale adesso dobbiamo sempre far capire a tutti quanti che bisogna investire su queste attività su questa tradizione che è la tradizione di Manfredonia Qualcuno ogni tanto sui social scrive con una punta di ironia il paese dei balocchi ma non è una cosa brutta essere il paese dei balocchi Beh è una cosa bella il paese dei balocchi vuol dire che si è ritrovata con la vivacità si è ritrovata con l'entusiasmo si è ritrovata una città che vive secondo le tradizioni e le eccellenze questo volevamo come amministrazione questo si sta facendo come dico spesso Manfredonia è forte deve essere forte per queste attività Grazie al sindaco, grazie a voi a più tardi Grazie a voi